Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra notizia quotidiana. Gifi Vip è scandalo dentro la casa. Mi hanno già detto chi vincerà, ecco chi è, Fan Sotokok, l'eliminazione di Antone Zequina ha segnato i meccanismi della casa del Gifi Vip in comportamento dell'attore, soprattutto nelle ultime settimane. Aveva costato malumori e discussioni, motivo per cui la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip sembra non soffrire la sua mancanza, a differenza di Aristide Manati, che stanno da alcune fonti sarebbe il prossimo vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma scopriamo di più. La confessione di Aristide Manati a Gifi Vip, parlando con Paona di Benedetto e Patrick Ray Pugliese, Aristide si è lasciato andare rivelando di aver costruito una bellissima amicizia con Antonio. Io al mattino riuscivo a farlo ragionare, poi nelle ultime settimane è diventato ingestibile, era sempre polemico. Questo, se essere buono, permette ad altre persone di sfruttare questo tuo lato, ha ripleccato la bella modella, riferendosi al comportamento dell'attore. Un pensiero condiviso anche da Patrick, che ha aggiunto, io l'ho inquadrato in terzo giorno, sono dispiaciuto per le cose che mi ha detto, l'ha chiamato l'ardoso. Lui è il peggior nemico di se stesso, ma c'è anche Den Boon in lui. Aristide allora ha provato a difendere Ziquina, affermando, in generale è stato sempre all'interno del gruppo e del gioco, con me si limitava molto, ha mostrato altri aspetti. È innegabile che il paleontologo abbia costruito un bel rapporto con Antonio, che si è andato consolidando con il trascorrere delle settimane e l'uscita della torre da Gifi Vip è stata per lui una perdita davvero importante. Lo scopro a riuscire a vincere a Gifi Vip. Il Gifi Vip è arrivato alle sue battute finale, mercoledì 8 aprile 2020, in prima serata su Canale 5. Infatti, andrà in onda la finale della quarta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini. Chi vincerà? Ricordiamo che, al momento, i finalisti ufficiali sono Paola Aristide, Paolo e Sossio, ma uno scopro arriva da Libero Quotidiano. A quanto pare, anche il vincitore di questa edizione sarebbe stato giacento a tavolino e non un nome tra i favoriti, che ricordiamo essere Patrick Pugliese, dato da Eppuc Mac come il più probabile vincitore dopo la auto-eliminazione di Andriana Volpe. È Antonella Elia, altro personaggio, molto discusso della casa più seguita d'Italia, ma secondo alcune fonti, a vincere questa edizione di Angifi Vip sarebbe in non certo bellissimo, ma molto conto a ristere esperto di Egitto Lozio, ma l'hanno già detto, assicura infatti il giornalista di Libero. Insomma, un conto a vincere sui restanti partecipanti Vip che ricordiamo essere assosso a Ruta, essere canciatore del Messagne Brindisi che ha partecipato a un uomo di donne tre anni fa, Paola Di Benedetto che è stata all'istola dei famosi due anni fa e Paolo Ciavaro, figlio di Paolo e di Elora Giorgi. Vip per nascita, quindi, si è eredita come i titoli nobiliari. Per concludere, tra i finalisti dei Gifi Vip ci sono in già citato Patrick Raipugliese, Antonella Elia, Andrea Denvo che è bello e ricco di famiglia, beato lui, che bomba Romina Carisi in bikini, seno a vista e curve esplosive. Romina Carisi sta continuando la sua quarantena di pizza, la figlia di Albano, infatti, da qualche settimana è rimasta bloccata sull'Istona dove era in vacanza con un gruppo di amici. La lontananza da casa sta preoccupando molto suo padre che vorrebbe tenerne accanto come del resto anche gli altri ragazzi. Intanto, Romina cerca di tranquillizzare la sua famiglia postando scatti e video attraverso il proprio profilo social e proprio su Instagram la figlia di Albano pochi istanti fa si è immortalata in uno scatto da togliere in fiato. Romina Carisi super sessi in bikini ancora una volta Romina Carisi è riuscita a stupire i propri seguaci. Alcuni giorni fa è apparsa senza intimo mostrandosi in topless all'interno del bagno della sua camera a Ibiza pochi istanti fa invece si è mostrata in bikini la foto risale ad una vacanza a Capri fatta lo scorso anno insieme a sua sorella Jasmine le due si sono molto divertite sull'isola e a testimoniarlo lo sono le tantissime immagini pubblicate nel 2019 la figlia di Albano forse presa dalla malinconia in questi gironi ha voluto ricondividere un bel momento nella foto in questione la vediamo straiata sul bagno asciuga fisico scolpito gambe toniche e addominali da urlo così si è presentata Romina sulla splendida isola dei VIP ovviamente lo scatto ha ottenuto un'aria di like e in tanti le hanno fatto i complimenti definendola una vera bomba sessi la preoccupazione di Albano Carisi per i suoi figli mentre Romina Carisi è bloccata a Ibiza Albano continua ad essere preoccupato anche per Jerry e Kristen la ragazza da quando si è sposata con suo marito si è trasferita a Zagabria e circa una settimana fa la Croazia è stata colpita da un brutto terremoto il giovane musicista invece è in Salento ma non può avere contatti con la propria famiglia con l'emergenza nessuno può spostarsi dalle proprie abitazioni se non per comprare beni primari intanto proprio Albano pochi giorni fa ha dovuto dire addio al suo caro amico detto Mariano e anche in questo caso non ha potuto dargli ultimo saluto non so che fine avrei fatto senza Paolo Bonolis Sonia Bruganelli la confessione sono conduttori di avanti un altro storia d'amore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono innamorati più che mai i due sono convolati a Notte nel 2002 e da quell'unione sono nati tre figli Silvia che ha qualche problema di salute Davide e Adele ricordiamo che il conduttore di avanti un altro è riduce di un altro matrimonio fallito negli anni 80 e da cui sono venuti al mondo Stefano e Martina quest'ultimi vivono in America con la madre e l'anno scorso a distanza di pochi mesi sono stati sposati entrambi nel nuovo numero del magazzino Key è contenuta una lunga intervista alla proprietaria della SDL 2005 la donna ha parlato del bellissimo rapporto che ha con il marito e degli attacchi che riceve dagli Hutt il suo rapporto con il conduttore di avanti un altro senza ombra di dubbio Sonia Pruganelli è un personaggio scomero per molti utenti web per questo motivo l'amore di Paolo Bononis è spesso bersaglio dei leoni da tastiera che la criticano per ostentare la sua ricchezza sui social network intervistata da un periodico diretto da Alfonso Signorini la produttrice ha rivelato di avere un meraviglioso rapporto con padre dei suoi tre figli la donna ha confessato che la scorsa settimana lei e Paolo si sono incontrati in corridoio scambiandosi in primo abbraccio dopo 15 giorni è un paradosso ma pur essendo così vicini con la testa ognuno cercava le risorse per non abbattersi ed essere di sostegno alla famiglia ha confessato la professionalista rifacendosi all'emergenza le confessioni di Sonia Bruganelli nel corso della lunga intervista per settimanale chi Sonia Bruganelli ha anche detto che i loro tre figli sono ormai grandi e iniziano a fare domande quindi lei e Paolo Bonolis hanno cercato di dare un'idea di normalità fissando degli orari organizzando gli impegni della giornata addirittura mettendo in piedi una canale su IG c'è da dire che la Bruganelli è una donna molto forte e indipendente infatti è a capo della casa di produzione SDL 2005 durante la chiacchierata con una giornalista ha confessato quanto sia importante il marito per lei non so che cosa avrei fatto senza Paolo anche nei silenzi quando ci si conosce a fondo ci sono parole d'amore uomini e donne anticipazioni torna Alessandro Calaprese Alessandro Calaprese fa ritorno a uomini e donne non ancora di ufficiale ma stando a quanto dichiarato dall'est Giaffino il pensiero lo starebbe davvero stuzzicando questa volta non in qualità di corteggiatore del trono classico bensì al trono procediamo per gradi Alessandro lo abbiamo conosciuto ai tempi del trono di Sonia Lorenzini il suo percorso non fu proprio quello sperato da subito l'estrolista non aveva visto di buon occhio accusandolo di non avere interesse per lei ma di essere in empocramma per questione di visibilità ad ogni Calaprese potrebbe tornare in dati show ecco cosa ha recentemente dichiarato tornerai al trono ci sono persone che potrebbero interessarmi intervistato per poccata di mondo tv 24 Alessandro è tornato a raccontare quello che è stato il suo precedente percorso all'interno dello studio di uomini e donne un'esperienza che non è proprio andata benissimo all'epoca Sonia scienze Emanuele Mauti e lui abbandonò lo studio gli anni sono passati e forse non è più tempo per corteggiare le ragazze del trono classico hanno domanda se vorrebbe fare ritorno nello show di canale 5 ha risposto nel trono ovo potrei pensarci ci sono veronica e valentina che non mi dispiacerebbero delle ragazzine sono stanco Maria accoglierà la sua richiesta non ci resta che aspettare le nuove puntate della trasmissione di Maria De Filippi grande fratello non è più come prima durante l'intervista Alessandro ha spesso anche due parole su quelle che sono recente edizione del grande fratello VIP il mio grande fratello era vero buttavano dentro dei ragazzi e quel che succedeva succedeva ora invece è tutto sbagliato mi basa esclusivamente sul gossip le litigate è tutto sbagliato